Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia, andiamo a vedere qual è la situazione della viabilità in Toscana. Partiamo dalla FIPILI dove si segnalano a causa del traffico intenso rallentamenti tra Santa Croce sull'Arno e San Miniato in direzione Firenze. Sempre in FIPILI si consiglia prudenza a causa della pioggia che sta interessando tutta la tratta stradale. Rimanendo in FIPILI si ricorda che fino al 13 ottobre per lavori di ripristino della pavimentazione rimarrà chiuso il tratto tra Livorno e Darsena Toscana Est in direzione Firenze. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda che rimarrà chiuso lo svincolo Fogibonso in ordine entrata in uscita in direzione Siena. Uno sguardo alla viabilità della città di Firenze in via lungo l'Africo ancora disagia la circolazione a causa di un restringimento di carreggiata. Con questo per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!